Ehi Peter, ce l'hai un minuto? Come punta? Sai com'è, il solito. Cose da uomini... Ragno. Che c'è? Volevo ringraziarti di nuovo per la prima lezione. Cioè, speravo in un pochino di azioni in più, ma ora sono tipo cintura nera di roba nuova. Questa faccenda è assurda! Sì, finché nessuno ti spara è una discreta figata. Concordo. E a quando la prossima lezione? Oh, non lo so, Miles, è un periodo... Ascolta, ho preso l'abitudine di finire i compiti in anticipo. Ho sistemato tutte le faccende di casa e non ho più schiacciato su nessun idiota basket, lo giuro! Sì, no, è grandioso, Miles. Stai andando benissimo. Ti avviso quando mi libero, ok? Ok! Certo, splendido! Grazie, Peter! Ho creato un mostro. Un mostro di entusiasmo. Non servivano le forze. Per me sì. Non è difficile guidare per qualche isolato. Hai visto cosa sta succedendo? Io non mi fido di nessuno. Si stanno muovendo. Devo seguirli nel caso qualcuno si presentasse senza invito. Per ora tutto ok. Non portare sfortuna. Dai. Perché rischiare? Perché la superstizione è un'idiozia. Vedremo. Sembra tutto tranquillo. Forse troppo tranquillo. Perché non c'è nessuno a sentirmi dire queste frasi a effetto? Abbiamo compagnia! Sgherri di Hammerhead. Sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Devo proteggere il testimone. Quel testimone resta con la polizia, gente! Niente da vedere! Circolare! Vediamolo a cipitano! Preghiamo, tanti! Preghiamo, tanti! Poteva finire male. Devo togliere di mezzo gli altri sgherri di Hammerhead in giro per la città. Grazie, Spidey. Traspederemo il testimone in un rifugio neggersi. Non correrà... Spiderman, come va la caccia? Bene. Ho una pista sui padrini. Tu come ti senti? Stanca. Ho chiamato le famiglie ed è filato tutto liscio. Ma... È stata dura. Molto dura. Ma andava fatto. Ci penso io, Yuri. Fidati. Ok. All'Auerbach-Tierre. Per fare da babysitter ai padrini. Per fare da Grazie a tutti. I padrini sono lì dentro. Sembra tutto tranquillo. Tranquillissimo, davvero. Scusate, ragazzi, sono finiti tutti i miei vesti. Le poltrone reclinabili vanno alla grande. I padrini saranno nostri in un modo o nell'altro. Fermiamo! Perché la Seibola ha protestato quegli... Scavaco? Forse dovrei inventarmi un nome migliore. Impediamo di farne pure armi! Dite che rispetto! Niente in confronto a quello che ti farà il capo! La prossima volta restate a casa, ok? Si risparmia un sacco sui popcorn! Ti sta attimando! Ti sta attimando! Avrò la tua testa! Come ci riesco? I ragazzi in San Veno! Dicono tutti che questo è meglio on demand! Non puoi soffrire! Uomo a terra! Uomo a terra! Ma che va mai? Ma che va mai? Ehi! Ma che va mai? Evoluzione! Voi che va mai? Ce ne sono altri sul tezzo. Hanno disseminato le difficili esplosivi. Bastava anche meno, eh? Devo sistemare gli sgherri e disinnescare le bombe. Sei un uomo morto! Hammerhead non approva i venerdì casual? Siete sempre ingessati in quei completi. Provate lo spandex! Mi state cimando, ragazzi! Dobbiamo beccarlo! Sono bombe a tempo. Devo sbrigarmi. Un altro paio di colpi ed è finita! Ora l'altro punto. Hanno disseminato l'edificio di esplosivi. Bastava anche meno, eh? Devo sistemare gli sgherri e disinnescare le bombe. Hammerhead non approva i venerdì casual? Siete sempre ingessati in quei completi. Provate lo spandex! Faccio. Ora l'altra bomba. E ora sono sull'altro tetto. fresco messo. Altri esplosivi. Devo fare presto. Meno una. Attenzione! E sono due. La bolla è con il piatto sospeso. Ed è incredibile, signori! Tripletta per lui! La bolla è in delirio! Accediamolo! Non vi stancate mai di perdere? Sì, lo dico per voi! Non fa bene al morale! Ok, i padrini dovrebbero essere al sicuro. Meglio entrare e controllare di persona. Spero che i padrini stiano bene. Dovranno cambiare nascondiglio. Ragazzi, dovreste rivedere le vostre misure di sicurezza. Ovviamente, ci sono gli scavatori corazzati. Come no? Accidenti, non è andata bene. Yuri, è scappato. Con i padrini. Cosa? Com'è possibile? Hai presente le armi che hanno rubato a Sable? Beh, erano più evolute del previsto. Avevi promesso di risolvere il problema. Mi hai detto di stare tranquilla. Sì, è vero, ma ho fatto un casino. Scusa. Ok, basta pause. Devo riprendere in mano la situazione. Ti chiamo quando ho un piano. Cavolo. Bel lavoro, Peter. Complimenti. Ehi, Zanthe! Sono sempre io! Non è la giornata più adatta, Scrooble. È sempre la giornata adatta per una sfida. Specialmente se coinvolge il ragno, salterino, fiumato di New York in una serie di prodezze spericolate. Non vedo l'ora di assistere alle mirabolanti acrobazie di Spidey nella seconda stagione. Sai, è che ho già degli accordi con un canale concorrente, per cui... Oh, ti prego, ti ho praticamente scoperto io. Se mi lasci, i miei fan perderanno la testa e potrebbero diventare violenti! Ok, dall'ultima volta ho modificato il suo Trojan per localizzarla ogni volta che partecipo a uno dei suoi episodi. Con sufficienti dati da incrociare, potrò scovare dove si nasconde e sospendere le sue trasmissioni a tempo indeterminato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarò veloce e silenzioso. Forse posso disattivare i sensori di movimento con le ragnatele. Perfetto! Ma devo fare presto, potrebbe riattivarsi. Oh, face bomb! Meno uno! Ma è ancora lunga! Se mi scoprono lo stagio è spazzato. Sotto con il photobomb! Sotto con il photobomb! Ops! Meno uno! Ma è ancora lunga! Sotto con il photobomb! Sotto con il photobomb! e silenzioso Forza! Vogliamo altri photobomb! Questo gioco non è il tuo forte Vero, Spidey? Vero, Spidey! Per moltiplicare i bersagli e costringerlo a dividere le truppe Ok, io cosa posso fare? Proteggi i trasporti Costiamo di spegnere più carichi in contemporanea Tieniti pronto ad aiutare i corrieri nei guai Perfetto! Sistematelo, mi penseremo ad Amarad Concentrati, ci sono troppe vite in gioco Quel tono di voce non mi piace Devo trovare un momento per parlare con lui È doloroso, ma non posso lasciarla sola Vediamo se riesco a sintonizzarmi sui canali della polizia Via libera! Ripeto, con voce 3! Qui via libera! La strada è scombra! Nessun nemico in vista! Rifugio 2! Pronti a ricevere! Ok, fin qui tutto bene A tutte le unità, presenza di nemici armati pronti ad attaccare i trasporti Nemici armati? Non per molto Cecchini, fermate il convoglio! Devo eliminare i cecchini e liberare la via al convoglio Bene Bene, è fatta Ora possiamo ripartire Ha eliminato i cecchini! Muoversi! Cecchini ovunque Sembra di essere al poligono Devo correre avanti e liberare la strada Altri cecchini! Fermi! Aspettate il via libera! Gli sgherri di Hammerhead non devono mettere le mani su armi e tecnologie di Sable Come si riesce? Fortuna, vanno giù come birilli È un gioco da ragazzi Frada libera, andiamo! Perché i pazzi come Hammerhead vogliono sempre combattere? Traumi infantili? Forse gli hanno tolto il ciuccio troppo presto Oh no, no, no! Ancora qui! Qui cosa? Sgherri di Hammerhead! Come ci hanno trovato? Proteggiamo le armi! Sorpresa, sorpresieri! Sorpresieri? Beh sì, è una parola adesso! Al distretto deve esserci una talpa Hanno informato Hammerhead sui trasporti Vi piacciono gli scavatori? Hammerhead li arruzzati per noi! Altre scavatori Ok, basta, userò tardi Ho deciso che si chiamano così Lassù, un blindato! Fuamo a terra! Vediamolo al cimitero! Fatto! Le tecnologie di Sable sono al sicuro A tutte le unità Abbiamo problemi vicino alla residenza del sindaco Sta uscendo qualcosa dal terreno Inviate rinforzi! Ripeto, inviate rinforzi! Altro che sicuro, devo darmi una mossa Hammerhead ha dichiarato guerra alla polizia E Yuri lavora senza un attimo di tregua So che tiene i suoi uomini Ma non può accollarsi tutte le responsabilità Visto è il campione di accollo di responsabilità Ma voi non odiate questi affari? Ci dovranno secoli per riparare le strade Il traffico sarà un incubo Contaci Sapete che la polizia usa le radio, vero? L'invoscate non restano mai segreti I giocattolini di Sable vi faranno molta compagnia in prigione Sono sicuro Schiacciamo per te Ecco un'altra salva Ma queste talpe non finiscono mai! Chi ridurrò a brandali! Chi ridurrò a brandali! Chi ridurrò a brandali! Chi ridurrò a brandali! Sei morto, mi hai sentito? 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 Vieni, ragno, seguici! Stanno scappando con le tecnologie, Sable, ma Yuri ha già troppi problemi. Posso farcela da solo? Devo farcela da solo! Ehi, ragno! Continua a seguirci, mi raccomando! Sì, l'idea è quella! Adoro i piani ben riusciti. Hai presente, ragno? Questo è il vostro piano? Questo? Mi sfugge! È la tua fermata! Ancora una. Forza! Servizio in alto! Yuri, che tempismo! Ho appena... No, qui! Hammerhead voleva tenerti impegnato e ci hai riuscito! Yuri! Devi tornare! No, no! Inviate le ambulanze! Chiamate il pronto soccorso e avvisateli della situazione! Devono stare pronti! Era solo un piano per sviarmi dal vero obiettivo di Hammerhead. Devo parlare con Yuri. Perché ha attaccato la centrale? Le tecnologie Sable non erano già altro. Yuri sembra costo. Fisicamente, almeno. È forte, ma tutti cedono prima o poi. È forte, ma tutti cedono prima o poi. Mi dispiace, Yuri. Avrei dovuto essere qui. Sapeva esattamente cosa fare. Appuntato ai contenitori del progetto Olympus. Sai di che si tratta? No, ma ora ce l'ha lui. E lo prenderemo. Lo so. Ma dove vai? A instillare paura. No, no, aspetta. Respira. O ti sposti, oppure ti arresto. Yuri, dobbiamo collaborare. Ti consiglio di starmi lontano. Questa storia non finirà bene, me lo sento. Stavolta ho incasinato tutto. Yuri aveva uno sguardo. Devo trovare Hammered prima di lei. Ma come? Non ho più uno straccio d'indizio. Forse potrei fare una ricerca per parole chiave sui canali della polizia, sperando che parlino di Hammered o del Maggia. Mentre aspetto, potrei fare un giro in città e scoprire cos'altro ha in mente Hammered.